Tutti i leader nazionali dei partiti facenti parte di una coalizione riuniti insieme sul palco di Piazza Salotto a Pescara a sostegno del candidato presidente alla regione Abruzzo del centrodestra Marco Marsiglio. Fatto quasi unico a pochi giorni dal voto a testimoniare un'attenzione particolare della politica nazionale per il voto nella nostra regione. All'indomani di un altro voto, quello della Sardegna, dove salvo esiti clamorosi dal riconteggio a prevalere a sorpresa è stata la candidata di PD e Movimento 5 Stelle. L'unica sarda che festeggerà domenica sera sarà mia moglie, ha tagliato a corto Marco Marsiglio, dimostrando di non temere più di tanto quanto accaduto dall'altra parte del tirreno e intanto incassa il supporto di tutti i big nazionali, da Gianfranco Rotondi per la democrazia cristiana a Lorenzo Cese dell'Udc, a Maurizio Lupi di Noi Moderati, Antonio Tajani di Forza Italia, Matteo Salvini della Lega ma soprattutto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia. Tutti concordi nel giudicare buono lo governo in questi ultimi cinque anni di Marsiglio e di una narrazione da parte degli avversari di Storta, che non tiene conto dei risultati ottenuti in una regione detta dello stesso Marsiglio, che è il governo di centro-sinistra ridotto in condizioni pietose in tutti i settori e che il centro-destra ha invece rilanciato sul piano dello sviluppo, della sanità e del turismo e che si appresta a rilanciare ancora, riuscendo a sbloccare quasi mezzo miliardo per la costruzione di quattro nuovi ospedali per non parlare degli importanti investimenti per il raddoppio della linea Pescara-Roma e proprio su questo punto si è concentrato all'inizio dell'intervento della Premier Meloni sotto una pioggia scrosciante parlando di infrastrutture di cittadinanza piuttosto che di reddito di cittadinanza come fondamento per lo sviluppo socio-economico di un territorio. Ed è quello su cui ci siamo messi a lavorare, è quello su cui Marco si è messo a lavorare con l'allungamento della pista dell'aeroporto di Pescara che consente i voli intercontinentali che consente anche quel turismo di ritorno per tante aree interne di tutti quegli abruzzesi che io incontro in tutto il mondo, vi dico la verità, sono ovunque e magari hanno voglia di tornare a casa di visitare i luoghi dei loro genitori, dei loro nonni e questo porta ricchezza su questo territorio e poi l'inserimento dell'Abruzzo nella tratta dei corridoi europei perché incredibilmente i corridoi europei TNT si fermavano ad Ancona e ripartivano a Bari, saltavano l'Abruzzo a piedi pari come si dice a Roma, è stato grazie a Marco Marsilio se l'Abruzzo è entrato nei corridoi TNT e poi le infrastrutture portuali perché noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo signori e se non capiamo che una delle più grandi infrastrutture che abbiamo è proprio il mare siamo matti e allora lo sviluppo dei porti, la Roma Pescara che abbiamo messo in sicurezza non più tardi di una settimana fa con uno stanziamento di 720 milioni al CIPES fatto dal governo grazie all'insistezza di Marco Marsilio grazie 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 grazie